ciao oggi ti insegno un modo per rendere più bella l'organizzazione del tuo materiale creando delle etichette che potrai usare su libri quaderni o qualsiasi altro oggetto che ha bisogno di essere identificato questa volta clicchiamo crea un progetto e invece di scegliere uno di questi o uno di questi andiamo su dimensioni personalizzate e scriviamo 1600 per 600 crea un nuovo progetto perché questo perché in questo modo noi abbiamo ottenuto un rettangolo che assomiglia a quello delle etichette comunque funziona con qualsiasi formato diciamo che in questo modo hai già un'idea di come organizzare gli elementi da inserire nell'etichetta prima di tutto io direi scriviamo nome e cognome e scegliamo un font che ci piaccia bene poi mettiamo la classe facciamo finta seconda a e utilizziamo lo stesso font che abbiamo utilizzato lo ingrandiamo un pochino e per adesso lo mettiamo qui questa sarà un'etichetta che noi vogliamo fare personalizzata e nello stesso tempo generica in modo da poter appiccicare su qualsiasi cosa quindi personalizzata perché c'è il tuo nome e la classe ma generica perché qui possiamo inserire degli elementi in modo che possano andare bene per qualsiasi cosa perché questo perché poi questa etichetta verrà riprodotta in tante copie sulla pagina da stampare quindi poi lo andiamo a vedere per adesso fidati quindi cosa potrei inserire adesso io qui ho già scelto per far prima degli elementi non so un mappamondo ho scelto delle del materiale che può andare bene per matematica geometria un bicchiere pieno di matite di penne dei libri questi non fanno mai male ok adesso utilizzando quello che abbiamo imparato sulle posizioni possiamo cominciare a disporre il nostro materiale esempio il mappamondo lo mettiamo davanti al righello lo mettiamo anche un pochino più grande e i libri li spostiamo di qua ok perfetto ovviamente io qui posso aggiungere quello che voglio e attenzione bene io ti faccio solo degli esempi poi devo creare uno spazio che mi servirà per scrivere successivamente a mano la materia del quaderno o del libro su cui vado ad appiccicare l'etichetta io ho pensato di farla così ho pensato di inserire un pennello e poi di cercare un elemento grafico basterebbe scrivere linea grafica e poi mettere il solito filtro e scegliere una di queste pennellate anche questa questa cioè per dare l'idea che col pennello abbiamo dato una una passata una passata di colore io ho scelto questo qui e lo metto qua lo ingrandisco un po' poi devo sistemare il pennello davanti ma non basta perché il pennello come vedi è intinto in questo colore rosa antico allora non è credibile che abbia fatto una pennellata verde allora utilizziamo un'altra cosa che abbiamo imparato selezioniamo la pennellata andiamo sui colori scegliamo questo e prendiamo il nostro contagocce lo andiamo a mettere sul rosa del pennello ed ecco che abbiamo corretto quello che prima non andava bene adesso il pennello dipinge di rosa ed effettivamente la nostra pennellata è rosa ultimo particolare da sistemare è lo sfondo puoi lasciarlo bianco o puoi andare a mettere un colore che ovviamente si abbini agli elementi che hai già inserito siccome abbiamo già messo tanti elementi io ti consiglio di utilizzare una tinta unita cioè di non scegliere uno sfondo che abbia delle immagini perché creeresti soltanto confusione quindi andiamo qua e scegliamo un colore che possa andare bene con quello che abbiamo messo o che ci piaccia insomma io ad esempio andrei su un tono neutro che potrebbe essere questo grigino in modo che tutti gli altri colori possano risaltare bene sulla pagina bene noi abbiamo creato la nostra etichetta quando abbiamo terminato di creare la nostra etichetta e siamo sicuri che vada bene andiamo su condividi invece di fare scarica come facciamo di solito scendiamo dove c'è altro qui si apre veramente un mondo devi scorrere verso il basso fino a che non trovi altre opzioni tra le altre opzioni c'è etichette i cardify clicchi qui va benissimo jpeg e gli dici salva una volta che il progetto è stato salvato clicca dove c'è scritto visualizza in etichette i cardify e qui si apre un pannello che ti fa vedere la pagina A4 dove saranno inserite le etichette per essere stampate e qui in alto l'anteprima cioè l'etichetta verrà così nel pannello di destra puoi scegliere il formato qui io direi di lasciare com'è perché in questo caso ti dice sistema metrico decimale che è il nostro e formato A4 perché se noi abbiamo intenzione di stamparlo su un foglio il formato A4 va benissimo qua ti dà la possibilità di scegliere in che modo inserire le etichette noi abbiamo creato un'etichetta rettangolare e quindi scegliamo rettangolo adesso lui ti presenta una serie di misure per decidere quanto grande deve essere la tua etichetta allora vediamo cosa succede cliccando ad esempio 60x30 qui sotto ti dice di questa misura puoi scegliere all'interno della pagina piena quindi senza margine oppure con il margine allora se noi clicchiamo 64x30 che è un po' quella che si avvicina di più al 60x30 ecco quello che succede c'è un'anteprima di come viene stampata la tua pagina ovviamente all'interno di queste caselline verrà messa l'etichetta allora non so ad esempio un 70x30 vado nel menu in basso e qui scelgo a pagina piena ad esempio questo non mi dà nemmeno un margine oppure posso scegliere delle altre misure queste sono le misure esatte vedi al millimetro proviamo a fare così che cosa è successo? è successo che in anteprima ci viene fatto vedere come saranno posizionate le nostre etichette in questo modo l'etichetta occuperà questo spazio tu potrai calcolare quante etichette te ne vengono in una pagina perché dipende anche quanto ne hai bisogno bene qui puoi anche scegliere se far vedere le righe se inserire soltanto una crocetta o soltanto una linea allora lasciamo pure le linee che magari sono più comode clicchiamo su print tranquillo perché non te lo stampa in questo momento ti fa vedere l'anteprima di stampa ed ecco la nostra pagina abbiamo realizzato vediamola intera ecco abbiamo realizzato una pagina di etichette sono 27 etichette a questo punto tu non fai altro che dirgli scarica dargli un nome scaricarlo sulla tua scrivania salvarlo e lui in pdf ti salverà questa pagina di questa pagina poi tu puoi decidere se stamparla su carta allora io ti consiglio magari una carta leggermente più pesante del foglio che normalmente si utilizza nelle stampanti poi le ritagli a mano scrivi la materia per cui ti serve questa etichetta in questo spazio e puoi inserire questa etichetta nelle finestrelle di plastica delle copertine oppure appiccicarla con del biadesivo direttamente sulla copertina del libro o del quaderno ancora meglio potresti farla stampare su una pagina adesiva dopodiché le ritagli non fai altro che togliere la pellicola dietro e hai un'etichetta per così dire professionale anche questa volta spero di esserti stata utile ci vediamo alla prossima per il momento buon lavoro